Squadra raccomandata 4 Oh no Asylum Oddio il manico Vai butta Andiamo C'è l'asylum Roadhouse No no che è tutte da 2 Però da 4 Che se ne fotte Ho consigliato pillole Grazie Go go Seleziona dai 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 Quanti significa che si sblocca altre map Eh si eh Le pillole ce le abbiamo? Sì Le avevi tu no? Non so se le ho perse Le hai tu l'ho mutillo Aspetta te le compro Le compro Piene 3 Eh non ci arrivo miss Aspetta Io Liquid ho preso un nostro vecchio amico No no ne posso prendere uno Cosa hai preso? Via Quanti Ok Ragazzi Ho paura Anche io Abbiamo tutti paura Da 4 Da 4 La mappa da 4 ragazzi In anteprima mondiale Solo su questo canale Mi raccomando Followate Subate E regalatemi soldi E domani vado io da solo con Moro alla Zainum Cazzo Quello vero però Beh Anche domani quanto ci spacchiamo col Moro Mamma mia che hype per domani C'ho un hypissimo C'ho un moro Penso che Esplodo Sì ma quant'è grossa Eh tanto Ma avete patato Ruttina No nessuno ha patato Rutt Che vergogna E anche Pia Mamma mia Pia Il fantasmino più bellino che abbiamo trovato Sì La metterai lì insieme a Sachi Di patta Rutt Brava Però con la voce dell'uomo Oh 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 Ma come obiettivi ci sarà sacrifica ti muori Ah lo faccio io Ci sta scritto trova i due fantasmi Oddio te lo immagini Vabbè questa qui secondo me si muore Ma che vuoi morire Ma va Ma sarà solo per la grandezza della mappa Quattro dai Guarda quanti piani ha Eh non posso cliccare un cazzo finchè non apparite Bastardi Esistono gecchino Ma come esistono mappe diverse Abbiamo fatte tre solo ieri Gecchino No cinque sono per adesso le mappe Sappiamo Sappiamo esistano Tre da livello due Una da livello tre Una da livello quattro Quella del roadhouse L'hanno già fatta? E' da livello quale? Quale? Due? Roadhouse Sì roadhouse si è la casa normale Ah ok Chi è questo? Andre Dino? Ah io Ciao Andre Dino Ma facciamo da mafioso sono io Che poi il personaggio di Andre Dino sembra quello di Life is strange o come si chiama Il pazzo Ah non mi ricordo Prescott Nathan 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 Sì ma a me ci mette un bot a caricare Ah è qua Ecco ecco Era anche ora Allora scopri con che fantasma hai a che fare Linda Garcia Risponde a tutti Crocifisso Foto E termometro Ah paura guarda lì Guarda lì Mamma mia No c'era la mensa Cazzo Madò guarda la mappa Sono due piani Due piani Guarda la mappa Il generatore ha il secondo piano Cazzo Dammi la torcia Dammi il cazzetto E dammi la radio Go Allora aspetta Cazzetto E E E E Do il termometrino Ci mancano il getto Cioè ma guarda Guarda Dimmi se non è inquietante così Cazzo Ma questi ci raggiungono fino a qua Sì Prendi Prendi il cazzetto in testa Non ci ho preso io No Manco io Manco io Buon Tino Ciao Buon Tino Senti lì Atmosfera Io direi di andare insieme Ho paura Un attimo Ah ok Ascoltiamo bene se c'è un suono Particolare Che mappa è La mappa da quattro giocatori Questa Un Tino Il terzo è Dreddino È Dreddino Io ti seguo I paxissimi Mangiavano Per forza Guarda Mantenevano la distanza Linda mi senti? Linda Garcia Ma chi cazzo è che dorme in un manicomio? Giacchino I barboni Forca mamma Ma i barboni preferisco morire che dormi in un manicomio Dai Non ci dividiamo Quantino Col cazzo Paura Andiamo tutti Linda Dimmi Oh si Ah siamo di nuovo nel lavoro da qua Ok Prego registrare Iscrizione al manicomio C'era una scuola C'è una classe Oh no mi hanno preso Linda Garcia sei qui? Linda Garcia Linda Garcia sei qui? Dacci un segno Of course Linda Garcia dacci un segno Linda Dacci un segno Devo dire che è molto curato Non ci sono i graffiti sui muri Se vedete Linda Garcia dacci un segno Linda Dacci un segno Sei qui? La Cazzo Mica paura Dacci un segno Linda Sei tu il fantasma Che guarda Jack Mentre dorme Linda Jack sbava nel sonno Oh guarda Oh guarda 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 Vieni Vieni Eh? Che bella stanza Guarda c'è la tv C'è la tv C'è la c'è lì C'è la c'è lì C'è la c'è lì È vecchia È vecchia Linda sei qui? Linda mi senti? Linda Garcia Puttana Ma sono matti A mettere quadri Così qua Linda Sì Vieni Andiamo andando All'altra parte Linda Garcia Vuoi bene Non ci sono suoni Per capire Comunque È veramente Un bordello Non posso entrare Questa non è Come la scuola È peggio È il bagno Delle donne Linda Garcia Entra così Entra così Linda Garcia Ti scappava? Linda Garcia Dicci qualcosa Mi lasciai ha detto Mi lasciai Ma è già spenta la corrente Non lo so Hanno già staccato tutto Ma non abbiamo manco mai acceso niente Ma io non ho mai trovato interruttori Io so dove l'interruttore No interruttori ci sono Nelle stanze Nelle stanze Non nel corrido Oh questa funziona Linda Garcia Mi senti? Riesci a sentirmi? Linda Garcia Dicci qualcosa C'è un orologio? Perché in quella stanza Non si accendeva la luce Allora? Oh Quanto è vicino da te Abbastanza mi sa Da noi è molto lontano Ah comunque il liquido Non è un piano superiore L'altro piano È inferiore Ci sono i materassi dei barboni qua Siamo ai sotterranei noi Eh ma il rumore proviene da dove abbiamo controllato le stanze Andiamo su va Andiamo su A meno che non sia sotto da voi ragazzi Possiamo andare a provare A andare fino lì giù A vedere se c'è un' uscita Vediamo Dammi un segno Linda Riesci a sentirmi? Linda parlami Mi bagni dalle donne Linda riesci a sentirmi? Non c'è un telefono lì Linda dacci un segno Linda riesci a sentirmi? Non la conosco Bella Linda L'amore di Jack è che basta Bella Linda Linda puoi far suonare di nuovo il telefono Linda mi senti? Parlami Linda Dacci un segno Dacci un segno Linda Linda parlami Parla con me Linda Linda bella Melinda Sai che se non era il ninda il nome abbiamo fatto un fail assurdo clamoroso? Linda call me Allora io vado a controllare il nome nel caso Allora tanto abbiamo l'isoliera Sì Andiamo Boh non ha più suonato Linda sei qui dentro? Linda Linda dove sei? Linda parlaci Dacci un segno Linda Si chiama Giovanni lo stiamo chiamando da mezz'ora Linda Garzia Garsia sono sicuro giusto Linda non mi ricordo Mi sono perso Segui segui di qua di qua Linda sei qui? No Dredino tu voglio vedere il nome Dacci un segno Linda Dacci un segno Linda Ci dai un segno Linda Il nome giusto? Ok Il cognome era? Garzia Garzia È giusto giusto Linda Garzia Call me Brava E' un segno Linda riesci a sentirmi? Linda parlami Linda dammi un segno E qui c'è la luce accesa Potrei aver dimenticato delle luci accese in giro Eh sì sto spegnendo No vuoi spegnere tutto Vabbè questa la lasciamo accesa E' grosso No vabbè Aspetta Se c'è un telefono possiamo anche lasciarlo Linda sei morta nel cesso? No non c'è un telefono Sei morta nel cesso Linda Interessante Sacico È liquid quello di giù? Si Oh Kenino vuoi prendere l'ascensore? Non vedo con le api dentro magari no? Si Linda riesci a sentirmi? Linda vuoi andare nell'ascensore con Ken? Linda rispondimi Linda Garzia Linda Garzia Linda Garzia Linda Garzia Questa ci ammazza Prima che riusciamo a scoprire la sua stanza Mi ha fatto Mi ha fatto squillare solo una volta Furbi Eravamo troppo lontani Linda Garzia E' questa la stanza? Come fai a saperlo Non c'è un telefono? Guarda che ci sono i letti dei barboni No 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 Una stanza con un telefono Queste sono tutte senza telefono in effetti Devi provo a cercare il telefono Non spengo la luce qua Linda riesci a sentirmi? Linda riesci a sentirmi? Linda Linda culona Quanti anni hai Linda? Io l'ho sentito di là Provo dall'altra parte Andiamo di là Linda L'ho sentito proprio di qua Questa stanza? Posso dire però che è una figata Ma non c'è un altro piano? Oppure è considerato questo il piano Questo è il piano terra Ma era il piano terra e il piano Insideraneo Vedi? Era di qua Di qua di qua Paura cazzo treddino Ci avevo la faccia in Tutto schermo Eh sì Il rumore è qui Nelle stanze che abbiamo incontrollato prima Cazzo Ehm Qui Dove sei tu? Eh Ciao Potrebbe essere tipo qua Vediamo se c'è un telefono E' qua in giro Secondo me è qua in giro Linda Sei qui dentro? Linda Dacci un segno No questa l'ho già controllata prima Non c'è niente Non c'è niente Qui non è Non c'è niente il mio linda garcia ma ci insegna qui c'è un telefono non so se non so la luce accesa no vieni non è non è qui secondo me è ancora più di là perchè ti ricordi noi eravamo scesi da di là noi eravamo scesi da qui dove sta andando liquid deve essere qua qua in giro un rumore mi scricchio lì sono io che apro le porte ragazzi cazzo 3d dal calore della stanza stavolta non si capisce ma abbiamo anche il cazzetto qui in mano squillerebbe subito se fosse quella la stanza potrebbe essere una di quelle stanze là in fondo quindi eravamo completamente nella sbagliata linda riesci a sentirmi linda sei qui dentro 3d no linda ok perchè magari mi scrive sul libro anzi sono è qua ragazzi è qua è qua è qua è qua è qua 5 punti avevo sentito qualcosa io cazzo di qua ragazzi sapevo che fosse in quest'ala qua però non ero sicuro di dove perchè ho visto il telefono qua allora sono rimasto un attimo due secondi di più che è un bello stanzone linda riesci a sentirmi linda hai voglia di parlare ora linda garcia linda garcia dacci un segno dacci un segno linda garcia linda dacci un segno linda dacci un segno e quindi allora dimmi piazza la radio su un tavolo tieni la cosa della temperatura no ma questo lo posso ho buttato via il cosino dei dei punti tanto non serve più adesso l'ho acceso magari intanto vabbè è già sceso sotto i 10 eh allora andiamo a prendere l'altra roba intanto e te che mi ricordo cerco di ricordarmi tanto se se stefano resta nella stanza poi la vediamo da ah che cazzo ho fatto aiuto le mie luci linda riesci a sentirmi ok ok linda garcia vuoi parlare hai voglia di parlarmi linda garcia linda vuoi comunicare con me però non ha più fatto nulla da quando allora la segnità mentale è a metà più o meno abbiamo fatto la cosa della temperatura linda garcia fotocamera e crocifisso bene ok dacci un segno linda linda melinda linda 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 dacci un segno sensorino che dici che cosa sensorino lo porto si 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 linda parlami linda 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 il sensore sta cercando di uccidermi ragazzi ok ha scritto qualcosa sul libro ah sono a sega io sto correndo aspettami dreddino non sembra avere tanta voglia di parlare comunque ok butta la ragione ha scritto nel libro si ok demone livello 5 ha scritto manca il freddo manca manca il freddo aspetta vedete se ci sono impronte c'è l'impronta c'è l'impronta c'è l'impronta impronta chi è che c'è la fotocamera e fa una foto io aspetta allora livello 5 impronta Reven ah vabbè yeh akira menai wa gambaru vieni vieni tre di no si aveva una falce era un'ombra non è un non è una bambina almeno dai vieni ah vieni qui vai ok che fai liquid? stiamo qua tutti ti lascio la fotocamera si dai provo io io ho il crocifisso Orlando io lo posso tirare allora vi lascio la fotocamera e vi vi aiuto dalla dalla cosa per vedere si è qui è qui è qui è qui l'anga è qui allora linda culona linda culona la signorina con la falce desiderata in questa stanza grazie ha tolto la corrente comunque eh eh non so neanche dov'è io lo so e il problema è dov'è è praticamente giù è qui è qui è qui allora vi dico dov'è il generatore se volete andare no no che cazzo fai che gli stai andando incontro no 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 sto con il crocifisso voglio tiragliela la vedo è sulle scale è sulle scale andando giù ok ok è andata giù è andata giù sulle scale si proprio quelle scale lì no è sparita mi sa ok allora andando giù adesso girate a sinistra due volte tutto dritto ho chiuso la porta mi sa appena potete svoltate a sinistra e poi di nuovo a destra andate verso il muro che avete alla vostra a sinistra nella stanza lì c'è il generatore tac guarda nel giornale se mi ha preso la foto dreddino eh ti guardo subito ma te l'ha presa ah no 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 te l'ha presa non l'ha presa no no chissà tu chissà tu chissà cazzo devo prendere la torcia cazzo devo prendere la torcia che succede? ok ok le avete fatte tutte queste stanza? si si ma io ho perso le scale erano di qua mi pare abbiamo già superato ve lo dico subito siete saliti voi? no no ah ok tornate indietro eh si le abbiamo già superate si per quello si le abbiamo superate si si allora sono dietro uno due tre alla quarta no non dico no 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 andate dritti continuate ad andare dritti ok allora c'è ci sono due stanze che precedono la via per le scale dovete andare a sinistra continuate ok alla prossima perfetto no linda l'ho chiuso cazzo è morto Ken ma è una vecchia una vecchia con la falce guarda la foto? ma non mi ha dato il tempo guarda se il crocifisso ha funzionato si ha funzionato ok ah no il crocifisso no porca troia il crocifisso è vero ma tu l'hai vista? eh minchia se l'ho vista io non ho avuto il tempo di fare niente non è vero è apparsa sei rimasto dentro tu Kenino hai fatto il pazzo si non hai capito a te l'animazione arriva dopo della morte a me io appena ho superato il barco mi ha ammazzato eh non l'ho c'è una data una però c'è però c'è non vedo il crocifisso però è sparito te lo dico che sparò? lì? ah ce l'ho in mano si ce l'ho in mano ok niente ti dico quando c'è un altro picco di attività no se l'altro lo dice Kenino è uguale diciamo che non c'è niente faccio così che è una f***ta calamita della morte niente non bullano niente non lo deve fare lui non lo deve fare lui col crocifisso ragazzi ogni volta che usa il crocifisso muore ciao governatore ok ok allora Kenino tu dove sei? comunque mi avevano chiesto come funzionava il gioco sono dietro lì ok ma entra nella stanza della vecchia eh eh sono lì sono dietro di te Linda sei veramente vecchia comunque eh intanto vado al bagno Linda Garcia ma come cazzo hai fatto a vivere in un manicomio vecchia come sei cioè dai Linda 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 minchia se mi sguarda no non c'è qui nella stanza è la stanza dove ti era suonato a 5 sì sì e beh è la sua stanza e ogni fantasma in festa ha un'unica stanza ragazzi si sposta soltanto poi più il tempo ci metti il crocifisso va usato prima che vada in ante dopo è tardi è una grandissima stronzata signor il crocifisso me l'ha spuntato solamente quando gliel'ho tirato dietro l'abbiamo lasciato a terra e siamo morti l'abbiamo tenuto in mano e siamo morti gliel'ho lanciato e ci ha dato la roba quindi io farò solo questo d'ora in poi non ci entro in quella stanza mi incura non c'è niente comunque eh lo so ma se c'è poi chiude tutto e mi segue crucifisso quelle coda di folgare esatto vaffanculo sa cico ma che è successo sa cico mi ha fatto cagare la cosa mi fai il clipino jack? mi fai il clipino jack? senti o entri oppure vai via perchè è sul bordo della porta guarda come non sai come si facciano le clip c'è un è da computer giusto? e non appare ragazzi che devo fare non non attacca più linda oh hai ucciso ken eh dai linda ken non fare body shaming non c'entra niente no è vero perchè da quando sono diventato bianco non mi ha più ucciso state sgravando tutti e due state sgravando tutti e due boh per me è andata via ragazzi l'abbiamo esorcizzata dai eh no se non gliela calcola vabbè dredd no sai che c'è non me ne frega un cazzo guidami verso l'uscita che non mi ricordo come si torna indietro eh aspetta un attimo che che se muoio anch'io è un casino tutti io perdiamo tutto cioè già abbiamo perso due già che muore ken perdiamo un bordello di roba se muoio pure io è fatta due cazzo in testa abbiamo perso nooo vero allora un attimo eccolo qua ok adesso ti guido brigati dredd una parte opposta merda ok vai sempre dritto no devo ripassare di nuovo vicino a quella stanza vai 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 sinistra qua? no 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 sinistra no no dietro di te dietro di te a destra 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 qua si ah ok non ho nemmeno visto che c'era una porta cazzo dietro di te non è vero vuoi provarci true Dreddino? vado a morire col crocefesso dov'è il crocefesso? vado a morire vai Dreddino Dreddino ti suona il tuo spirito guida sta sbagliando sta applicerando la luce no no è uguale eh ma l'edizione Kenen qua non può bannare quel drogato ma che ne so uno che scrive stronzate cosa Gianni? te lo banno? si fatto io hai spento tu la luce Dreddino? no buavvia ciao Dreddino hai fatto un giro del cazzo lo sai sì che qui c'è l'uscita che ruite si ecco paura hai paura allunghiamo il giro nel buio eh però il fantasma pare qua che cazzo gliene frega lui Dreddino ecco questa è la stanza questa è la stanza eh lo so che è quella della stanza dopo il culo Dreddino alza il mio corpo Dreddino ah io vedo il rilevatore da qui perché l'avete messo lì? le potevate metterlo davanti alla porta mannaggia a voi non so manco dov'è eh sta tutta a destra drogati smettetela che poi che cazzo vuol dire? che incogniti Treddino è davanti a te sparita Treddino vai verso l'uscita cioè verso la porta dell'uscita di quella stanza non verso l'uscita uscita fanculo fantasma di merda no Treddino non te ne puoi andare Treddino torna lì no Treddino vai via fidati lo pissa Treddino ma ok l'ha vista ma non l'ha attaccato deve lanciarle il crucifisso deve lanciarle il crucifisso basta niente Treddino se ne è dato da terra dai torna dentro che poi ha due passi su subito l'uscita pensavo l'avessi fatto ci servono i big money se che Nino muore Dreddino non possiamo andarcene così c'ho l'assicurazione c'ho l'assicurazione te ne da solo metà indietro l'assicurazione ma comunque ho comprato tutte stronzate ma accendi la luce Treddino perchè stai al buio in quella stanza? e perchè magari appare più frequentemente? che cazzo ne so vabbè ma almeno la senti al rivale perchè fliccherano le luci cosi non lo sai nemmeno quando arriva ma fliccherà anche la mia no? mh in effetti si oh guarda niente ha spento il generatore no 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 che cazzo vabbè c'è spera sei pazzo fino a lì da solo allora le statistiche dicono che se mi metto qua muori prima porco ho sentito pure da se l'ho sentito da quel pure ho sentito un sospiro sospiro sei troia non lo sai lo sai sei troia sei troia diglielo Treddino premi B cazzo sei andata in tutte le strade del mondo a fare glop glop no 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 Treddino non dirle così è vecchia Treddino perchè fai move walk Treddino? cazzo hai preso talmente tanti uccelli in bocca che è diventata un pappagallo cazzo niente quella falce la usava per infilare il cazzo Treddino sento che è nino in culo non mi piace una cosa guarda che davvero stronza ha ucciso Ken e basta è soddisfatta così Non attacca più No ma tu non puoi capire come mi ha ucciso Ma io l'ho visto Io ho visto un pazzo che entrava dentro l'aula Questo ho visto Io mi ha ucciso Ma tu mi vi Perché l'animazione a te arriva Sì ma sei morto in mezzo all'aula o no Sono entrato nell'aula Nel momento in cui già mi aveva preso Mi ha preso fuori dall'aula Quello che ho visto io è stato Praticamente Dalla camera Che Nino che entra Subito a destra C'ha il fantasma Pam muore Sì tu l'animazione la vedi dopo Cosa fai qui va te ne torna dentro Esorcizza Esorcizza questo bastardo qui Dai c'è C'è attività Come c'è attività Sì sì guarda È stato tutto il tempo Sul bordo della porta E questa paraccio la fai dentro Cosa? Senti Potevi comprare due crocifissi Potevi comprare due crocifissi Andavo anch'io Adesso no Basta Io l'ho chiesto Ma io mi hai detto Che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è Non ha comprato quello vero Infatti Dredino Hai quello falso Sì signor Non ci avevo pensato È lì Dredino È lì Mi si è bugato il gioco Ok È uscita dalla stanza Sta andando a sinistra Che faccio? Ad avanti Dico Cazzo È sulle scale Ha fatto lo stesso giro che hai visto tu prima Mi sa La seguo La seguo La seguo E allora Allora sta trollando Tra poco È girata a sinistra 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 Sì sì Sto trollando Sì ti vuole allontanare dall'aula Ti vuole E poi ammazzarti come ammazzato che Che poi è Sì 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 Non entrare Non entrare lì Dino No no Il momento giusto per andare invece Vai nell'aula Sei scemo? Ma scusa Le devi lanciare il crocifisso o no? Sei scemo È quello che dobbiamo fare Ma guarda che te Ma questa è rincoglionita E dalla stanza esce Non t'ha visto? Dreddino ci sono io nella stanza Te lo dico se c'è Non c'è Non ho capito Il problema non è se è nella stanza È che sta rincoglionita Se ne va sempre L'ha fatto solo una volta Adesso vedrai Sta fricherando Sta fricherando È nella stanza La sento Oh cio Non ti avvicina troppo a quella porta Dreddino Dreddino sento rumori di passi Dentro la stanza Ma non la vedo Tira il crocifisso Tira il crocifisso Tiralo e vai via Se ne va via con tutta la calma possibile Non l'ha preso il crocifisso No non l'ha preso Vaffanculo La prossima volta ne appartiamo due Vabbè dai sti cazzi Andiamo via Senti cosa ti sta chiedendo Jack Stai ma se lo prendo Lo fai con me sabato Da impegni Cazzo se lo facciamo Jackino Ma lo chiedi pure Chiudi tutto Che cazzo fai Ci pensi pure Andiamo via E' deficiente E' deficiente E' deficiente E' bagato però Era abbastanza bagato Cioè non ha senso che prenda E se ne vada giù Un sintonrario a caso Io quando l'ho visto apparire Ho detto Cazzo vieni da me Ti tiro un crocifisso in fronte Cazzo Eh si Invece Perché non ti vedo più in lobby Mi ha fatto uscire Ho sbloccato la difficoltà intermedia Cosa? Ho sbloccato la difficoltà intermedia Perché abbiamo giocato a Easy Fino adesso noi E' vero E' sintonrario E' vero E' vero